Questa giornata, dedicata all'eliminazione di una delle piaghe più persistenti e devastanti che affliggono l'umanità, ci ricorda drammaticamente che ad oggi, nel nostro Paese, una donna su tre vittime di violenza, non solo fisica, ma psicologica ed economica. In questa questione, lo spazio teatro Noema vuol far sentire la sua voce di teatro libero e indipendente, da sempre contro tutto ciò in cui la violenza si radica e sviluppa, ovvero la discriminazione, la disuguaglianza, il pregiudizio. Un teatro che fin dalla sua fondazione si è sempre posto in prima linea nel raggiungimento dell'uguaglianza come valore universale e che attraverso la via dell'arte invita a costruire e immaginare un futuro diverso per tutti e una società orientata verso una pace sociale condivisa. La violenza sulle donne è un problema che riguarda ciascuno di noi, di fronte al quale non possiamo fingere indifferenza se non vogliamo fare passi indietro rispetto ai diritti umani già tanto maltrattati. Domenica, in occasione della prima domenica speciale della nostra nuova stagione titolata in viaggio, abbiamo scelto perciò uno spettacolo interpretato da cinque giovani attrici che daranno voce e racconteranno una delle più grandi artiste della storia dell'arte, Artemisia Gentileschi. Lo spettacolo ci porta a conoscere non solo l'universo creativo di una pittrice straordinaria, ma anche quello intimo e personale di una donna dall'esistenza tormentata, caratterizzata da violenze fisiche e psicologiche. Sappiamo che Artemisia Gentileschi fu la prima donna ad ottenere un processo contro il suo stupratore, che però non scontò mai la pena. Ma sappiamo anche che fu la prima donna ad avere il privilegio di essere ammessa nel 1616, alla prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Artemisia Gentileschi rappresenta l'emblema della donna che ha saputo dare voce alle donne, ricordando loro che attraverso l'arte e la bellezza si può salvarsi dalla solitudine, dal disonore e dalla violenza. Oggi come ieri, per sconfiggere la violenza maschile non solo, sono essenziali strategie politiche, ma soprattutto culturali, mirate all'educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento e alla realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata. Solo insieme possiamo lavorare per combattere gli stereotipi che producono le condizioni favorevoli alla perpetuazione di ogni violenza.